Siamo ormai a pochi giorni dal Natale ed è per me una gioia trasmettere questo augurio a tutti coloro che ci ascoltano, a tutta la Diocesi. È il mio primo Natale qui a Brescia e sento il desiderio di condividere quella che è un'attesa di tutti. Mi pongo anch'io la domanda, che cosa ci aspettiamo da questo Natale, che cosa desideriamo ricevere? C'è una parola che mi sta molto a cuore ed è la parola serenità. Credo abbiamo tutti bisogno di maggiore serenità ed è quello che vorrei chiedere per me e per tutti, pensando anche alle varie generazioni, alle varie categorie di persone, alle varie situazioni. Sono convinto che la serenità non si possa improvvisare, non si tratta semplicemente di buoni sentimenti, si tratta invece di qualcosa che va anche guadagnato. È insieme un dono perché porta con sé la pace del cuore, ma è anche insieme una responsabilità. La serenità deriva dal fatto che insieme affrontiamo quelle che sono le sfide di questo momento, lo facciamo senza senso di smarrimento, lo facciamo con speranza, ma lo facciamo anche con decisione e forse anche con un poco di coraggio, sapendo che colui che viene in mezzo a noi nella potenza di Dio è anche colui che ha a cuore la nostra vita e che desidera prendersi cura di ciascuno di noi. Il nostro sguardo da qui si allarga al mondo intero e vorremmo che questa serenità arrivasse soprattutto laddove la gioia del cuore rischia di essere compromessa. E noi a vicenda ci impegniamo a diffonderla. Buon Natale a tutti.